Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione dedicata al Consiglio regionale della Toscana. Questi i titoli della puntata. Ambiente, piano di tutela delle acque della Toscana. Coricom Tour, un ponte con i territori. Libri, il generale e il Covid. Storia di una battaglia vinta e di una rinascita. Apriamo con l'ambiente. Sono stati approvati due ordini del giorno, due proposte di risoluzione, mentre è stato respinto un ordine del giorno per il piano di tutela delle acque della Toscana. Giunge in aula l'informativa sul piano dell'acqua. Le nostre considerazioni sono innanzitutto quelle che l'atto che ci viene proposto è un atto molto tecnico che ci pare, come spesso succede, sfugga un po' alcune invece impostazioni di ordine politico che non si trovano nel documento. E quindi questo è il primo elemento che ci è pazzo corretto rilevare. E facendo seguito a questo tipo di approccio abbiamo messo in evidenza in primo luogo quanto soprattutto pensando all'acqua come tema centrale, come bene della vita costituzionalmente garantito come riferimento ovviamente voluto anche da un referendum importante come quello del 2011, però è altrettanto vero che l'acqua, pensiamo ai fenomeni alluvionali, è un altrettanto tema da tenere sotto controllo sotto questo profilo. E quindi abbiamo evidenziato come per esempio il tema del consumo di suolo sia collegato al tema dell'acqua e probabilmente la legge 65 del 2014 in realtà largamente svuotata, modificata più di 90 volte negli anni, in questi dieci anni, vada sostanzialmente rivista a tutela di quello che sono i cambiamenti climatici. L'acqua è la risorsa a nostro avviso più importante della quale dobbiamo avere tutela, dobbiamo lavorare per fare in modo che anche la Toscana abbia un piano di tutela delle acque al molto moderno. Su questo abbiamo portato in discussione due proposte. Da una parte la creazione di un maggior numero di invasi possibile, sia pubblici che privati. Una singola impresa agricola può essere titolare di un invaso privato a servizio di se stesse e non solo, anche sulla questione degli incendi ma sull'approvvigionamento idrico e non solo e sull'irrigazione. La stessa cosa deve fare il pubblico con i grandi invasi che mettono in sicurezza idraulica i territori ma che diventano anche delle grandi elementi di riserva. E poi grandi progetti di installazione è un tema di grande attualità, bisogna affrontarlo anche in Toscana, è un meccanismo che può favorire i processi di economia circolare, come tali noi ci portiamo avanti nella nostra risoluzione collegata chiedendo dei percorsi che possono alleggerire le questioni di carattere burocratico, urbanistico e di opera pubblica e il pubblico si faccia trovare pronto dentro un progetto. L'Europa sta andando avanti velocemente in questa direzione, l'Italia è fin troppo ferma e la Toscana a mio avviso può essere una regione all'avanguardia, soprattutto dentro anche il recupero dei processi che questi fenomeni di installazione possono procurare dando anche risorse non soltanto idrica ma anche di materiale da utilizzare nell'economia. Serve un cambio di paradigma completo così come ci è stato anche suggerito da vari enti e istituti che lavorano a quelli che sono i modelli pluviometrici e quelli che lavorano in tutti i campi che riguardano la risorsa acqua nel suo insieme. C'è da dire una cosa, che le perdite che derivano dagli acquedotti in alcune città specialmente ancora oggi sono enormi, le risorse idriche così come esistono adesso e come sono adesso non sono migliorate se non in pochi casi mentre altre hanno avuto netti peggioramenti anche da nuove sostanze che in Veneto, lo ricordiamo, stanno facendo danni enormi e sono estremamente pericolose e c'è una riflessione che è ancora in corso sul fatto della pubblicizzazione dell'acqua, c'è il cuneo salino che è una grande risorsa per tutto il nostro ecosistema delle dune marino e in tutto questo la regione in questi anni bisogna dire che non si è attivata molto quindi questa informativa preliminare è sicuramente confortante dal punto di vista che perlomeno la regione mette un'attenzione sopra ma ci sono tanti aspetti che invece quando si arriverà poi alla stesura del piano dovranno essere considerati. L'informativa dell'assessore Moni è un'informativa generale che però non individua correttamente il rapporto fra il piano di tutela delle acque e il piano di gestione che è l'atto sovraordinato che è di competenza dell'autorità di ristretto. Di fatto quest'ultimo il piano di gestione è operativo va di sei anni in sei anni siamo già alla fine del secondo sessegno in realtà la regione toscana dal 2005 non ha aggiornato il proprio piano di tutela delle acque e i risultati purtroppo si vedono ci sono circa il 5% delle acque superficiali in condizioni molto critiche il 22% di acque superficiali in condizioni assolutamente non sufficienti e altre in condizioni scarse quindi è evidente che occorre intervenire sulla qualità dell'acqua laddove ci sono scarichi impropri e soprattutto recuperando tutta la gran parte di acqua e va dispersa all'interno di acquedotti ancora in larga parte con la brodo. Un'informativa molto importante che dà sostanzialmente l'avvio al percorso anche all'interno del consiglio poi della commissione si tratta di un provvedimento atteso importante che dimostra anche la grande attenzione che l'amministrazione regionale come del resto così tutte e tutti noi pone e dobbiamo porre a il tema strategico di preservare la risorsa acqua. È stata un'informativa articolata molto dettagliata ci sono tantissimi aspetti che anche nel dibattito sono stati ripresi e questo credo sia molto importante e significativo. C'è stato un confronto sul merito già nella fase della discussione di questa informativa poi c'è stato anche il momento delle analisi rispetto agli atti presentati dai vari gruppi. Si tratta come detto dell'avvio di un percorso che tra l'altro come è stato evidenziato anche in numerosi interventi vedrà la partecipazione di tanti soggetti e poi abbiamo evidenziato, lo abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico trovando piena corrispondenza anche negli impegni dell'assessore Amonni ovviamente abbiamo evidenziato l'importanza anche di un percorso di partecipazione che si rivolgano anche alla cittadinanza. E con il secondo servizio vediamo la conclusione del Corecom Tour con la decima e ultima tappa. Andare tra la gente, ascoltare, cercare di trasmettere il lavoro importante che il Corecom porta avanti per i cittadini, risposte tante che vengono date sui temi legati alle questioni, legate alle telecomunicazioni di vario genere, alcune anche questioni che toccano proprio la vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini toscani e sapere che si è stato in tutte le province, che la risposta è stata molto positiva e la voglia e la necessità di continuare anche a raccontare i tanti progetti che vengono portati avanti. Io penso al comunicatore toscano dell'anno, penso ai progetti di iniziative sociali che vengono raccontati attraverso i migliori progetti di comunicazione. È un modo davvero per cercare di restare all'altezza dei bisogni degli occhi delle persone. È un bilancio sicuramente positivo perché abbiamo voluto aprire questo canale diretto con i territori, andare in tutte le province della Toscana in collaborazione con l'UPE, con l'Unione Provincia Italiana. È la prima volta che il Corecom esce almeno in modo così strutturato dalle stanze fiorentine e ci sembrava importante stabilire questo ponte diretto con le istituzioni, con i cittadini, con le scuole, con l'associazione, con le imprese perché il Corecom svolge tante funzioni sia sul mondo dell'informazione ma anche sull'educazione digitale e sulle buone pratiche di comunicazione che non sempre tutta la popolazione toscana conosce. Per cui è un modo per dire il Corecom c'è e a disposizione ci sono tanti servizi come il concilia web per le conciliazioni con le controversie telefoniche che può essere di utilità concreta e quotidiana per la vita dei cittadini toscani. Il tema delle controversie telefoniche è il tema diciamo di punta, la funzione di punta che svolge il Corecom che restituisce ogni anno milioni di euro nelle tasche dei cittadini toscani e che ha percentuali superiori all'80% di riuscita. È uno strumento che si affianca molto al cittadino sia nella fase di svolgimento delle conciliazioni e poi delle risoluzioni ma anche durante lo stesso giudizio perché viene garantito il cosiddetto favor utentis cioè l'interpretazione rispetto alla controversia più a favore dell'utente rispetto alla compagnia telefonica. Quindi è uno strumento che mette un equilibrio fra la disparità di potere fra le grandi compagnie telefoniche e il cittadino toscano. La provincia si conferma come ente intermedio fra i comuni e la regione toscana, un ruolo strategico che dopo la riforma del 2014 comincia di nuovo a prendere sostanze e anche a offrire veri e propri servizi, fra cui anche questo diciamo quello di far conoscere questo importante ente di consulenza per la regione toscana, per la comunicazione a tutti gli interessati, a tutti i portatori di interesse e anche ovviamente agli enti locali. Anche la provincia di Pisa si sta dotando finalmente di nuovo di un nuovo organo per la comunicazione e per l'informazione di un ufficio stampa. Come sappiamo ecco le province hanno subito questa riforma pian piano e come in questo momento stanno riacquistando importanza, non solo strade e scuole che sono le cose più note. E concludiamo questa puntata con un libro. Il titolo è Il generale e il Covid. Vediamo insieme di che cosa si tratta. È stato un tempo difficile quello del Covid, un tempo che ha portato via da noi tanti amici, tanti familiari, un tempo che ha stravolto le nostre vite. Oggi se chiudiamo gli occhi e torniamo indietro a quattro anni fa sembra un tempo così lontano, invece un tempo che ha cambiato le nostre abitudini. Qualche giorno fa ho rivisto le immagini delle tante bare a Bergamo e ho ripensato a quei giorni, ho ripensato al tempo in cui sono diventato presidente del Consiglio regionale, arrivò la seconda ondata del Covid. Ho rivisto le storie di tante donne e di tanti uomini. Una di queste storie è quella di Stefano Aglietti, che ha avuto modo di conoscere nella passata legislatura in cui facevo parte della Commissione Attività Produttiva, la sua battaglia a fianco degli ambulanti, il suo lavoro sempre attento verso gli altri e poi il Covid che ha cambiato anche purtroppo la sua vita. Oggi grazie a un libro scritto da sua figlia proviamo a raccontare un po' quel viaggio, un viaggio che è un modo per poter raccontare il viaggio di tanti di noi, è un modo per poter dire che il Covid è stato un pezzo della nostra vita e che dobbiamo imparare tanto, in particolare dobbiamo imparare a chiedere più investimenti in sanità pubblica perché senza di quelli tutto è più complesso. Presentiamo uno spaccato di vita, uno spaccato di ricordi perché chi ha vissuto quei momenti, quei mesi come li ha vissuti Stefano, come li abbiamo vissuti noi insieme a Stefano non li dimenticheremo mai, non li dimenticheremo mai perché loro erano, stiamo parlando degli ambulanti, dei mercati, loro erano veramente la terra di confine, la terra di tutte quelle decisioni strane che non riuscivamo a capire perché chiudevano i centri commerciali dopo e chiudevano prima i mercati dei centri commerciali perché diventava un momento di socialità anche andare a farlo dei passi nelle piazze dove c'erano gli ambulanti e i mercati, mesi indimenticabili, è giusto ricordarli, è giusto ricordarli non con tristezza, non con rabbia, non con polemica ma con il sorriso di chi ce l'ha fatta a uscire e oggi a testa alta guarda il futuro. Un libro che racconta attraverso testimonianze di tanti amici, di tanti conoscenti la storia di Stefano Aglietti che è un commerciante ambulante che ha dovuto lottare per tanti mesi contro il covid che l'ha messo a dura prova, ha rischiato di morire, fortunatamente ha vinto la battaglia anche se ha purtroppo fatto i conti con dei pesanti postumi della malattia. Un segnale di ripartenza anche per tutte le persone che sono in difficoltà perché da un periodo buio si può uscire e sicuramente si può comunque essere vittoriosi e secondo me questa è la cosa più bella perché questa per noi è stata veramente un'enorme soddisfazione. L'appuntamento con l'informazione dedicata al Consiglio regionale della Toscana termina qui, non mi resta che ricordarvi il sito dove potete vedere tutte le notizie relative all'Assemblea Toscana www.inconsiglio.it Grazie per averci seguito e arrivederci.